Ben ritrovati e benvenuti amici di Auto Occasioni, oggi le nostre telecamere sono accese su Luciano Moto e con me Atos Lovera, ciao Atos, ben ritrovato. Ciao Elisa, ben trovata, ben trovati anche a voi amici centauri. Ci troviamo nello showroom più grande d'Europa, esattamente a Casalgrasso in provincia di Cuneo, in via circonvalazione 49A e apriamo assolutamente in Kawasaki, Atos, con tantissime opportunità e non manca mai l'operazione 50. Kawasaki, un po' come tutte le altre industrie che producono motocicli, ormai hanno quasi esaurito i mezzi disponibili, a causa Covid naturalmente la produzione si è fermata quando non ha comunque rallentato, però tranquilli perché abbiamo ancora diverse unità, appunto disponibili in pronta consegna, siamo qua ora in mezzo alle Versys, abbiamo la 650 che è la più venduta, non dimentichiamo poi la crossover di cenerata maggiore, quindi la Versys 1000 e abbiamo ancora qualche 300, disponibili appunto sia 650 che 1000, come da campagna pubblicizzata da Kawasaki sul sito noi aderiamo, quindi riconoscendovi incluso nel prezzo di listino della base, la versione Tourer Plus che ha di serie le valigie laterali in tinta con le borse interne, i faretti supplementari di profondità, i paramani e la protezione del serbatoio, per cui senza un euro in più rispetto al prezzo di listino ed è acquistabile poi comunque con l'operazione 50%, per cui lei come tutte le altre nostre moto vi costerà soltanto la metà e dopo due anni di manutenzione tra l'altro scontata al 50% deciderete semplicemente se pagare la metà che rimane oppure riportarci la moto senza alcun costo ricevendo un rimborso pari almeno al 30% di quello che avete speso. Non dimentichiamo la Z125 per chi ha 16 anni e vuole partire appunto su una Kawasaki, fino ad arrivare poi appunto per tutta la gamma alle sovralimentate H2, quindi sia Ninja abbiamo ancora una Carbon disponibile nuova da immatricolare che è la ZH2 oppure la H2SX, anche qua abbiamo ancora un paio di unità in pronta consegna, per cui veniteci a trovare. E abbiamo raggiunto lo spazio dedicato a Benelli, un marchio storico italiano di cui Luciano Moto è concessionario ufficiale. Certo, qua abbiamo la novità più attesa del 2020 che è la 752S, quindi una scaranata che fa una settantina di cavalli, bicilindrica, molto molto divertente, agile, a un prezzo lancio, anche qua con l'operazione 50% a 3.495. In questo reparto trovate poi altri marchi di cui siamo concessionari ufficiali come Fantic appunto, che è proprietaria anche di un altro marchio, di un'altra moto storica italiana che è la Caballero, anche qua disponibile questa in pronta consegna. Ricordo poi a tutti che siamo anche concessionari ufficiali SVM, anche qua con tutta la gamma disponibile. Non può mancare anche Mesh, con la presenza appunto in salone di tutta la gamma, si parte proprio da 54 tempi, divertentissima e leggera, arriviamo fino alle 6.50, passando poi per il sidecar, il family side, molto bella anche questa, se volete muovervi in tre. E abbiamo raggiunto il mondo custom, siamo appunto vicino a questa bellissima FTR. Ricordo che Casa Indian è un marchio di cui Luciano Moto è concessionario ufficiale non solo in Piemonte, ma anche in Liguria e Val d'Aosta. Quindi Atos, dici tu. Certo, l'ISA rappresentiamo appunto in modo ufficiale per Piemonte e Liguria e Val d'Aosta la vera leggenda americana, ormai dal 2017. Le moto davvero stanno ottenendo un successo incredibile, nel senso che hanno davvero abbastanza ammazzato il mercato per quello che è appunto la qualità costruttiva, non solo custom, nel senso che chiaramente la motocicletta americana rappresenta poi il genere custom per Antonomasia, ma siamo qua appunto in mezzo all'FTR perché Indian è ormai al terzo anno consecutivo in cui vince il campionato mondiale di flat track che è appunto corso con l'FTR. Dalla 750 è derivata direttamente dalla 1200 che qua abbiamo nelle varie configurazioni. Questa qua in mezzo a noi è la Sport, quindi rivestita completamente di carbonio, tutte le plastiche, laddove appunto nella moto originale sono plastiche, qua sono tutte quante fibre di carbonio e monta gli scarichi Akrapovic di serie. Anche qua venitela a provare perché la moto è davvero divertentissima, è molto molto maneggevole, col strabatoio sotto sella e due cerchi sia anteriore e posteriore che da 18, è una moto unica davvero nel suo segmento, quindi non c'è un'altra moto che abbia delle caratteristiche simili, i cavalli sono 120, c'è in allestimento anche touring, per cui non è una moto con cui potete soltanto saltare giù dei marciapiedi, ma si viaggia anche tranquillamente. Abbiamo l'ultima disponibile in Italia, nuova day matricolare, in configurazione race replica. Poi chiaramente fissate un appuntamento per provare tutta la gamma perché abbiamo appunto dalla Sixty, passando per la Bobber, i vari 1.8 raffalati aria olio e arrivando fino al 1.8 Challenger, appunto anche qua 120 cavalli di turistica, davvero divertentissima, per cui vi aspetto, veniteci a trovare. E abbiamo raggiunto lo spazio dedicato agli scooter, parliamo in particolar modo del brand quadro che sta spopolando e che rappresenta a pieno la filosofia del Be Different. Certo, Lisa, Be Different è il quadro che non può che confermare questa filosofia, con ormai i favolosissimi veicoli QV3 a tre ruote e QD a quattro ruote in varie configurazioni che potete appunto venire qua e provare tranquillamente, anche prendervelo per un paio d'ora e quindi il testare davvero con mano, appunto la differenza che rappresenta in termini di sicurezza. Sono appunto, il reparto quadro è collocato nel padiglione che riserviamo soltanto agli scooter, dove potete trovare all'incirca 200 pezzi di tutte le cilindrate, quindi si parte dal 50, arriviamo fino agli sportivissimi T-Max in tutti gli anni, AK550 appunto, e Burma 650 e Aprilia Estre V850. Su tutti questi scooter possiamo permutare anche la vostra automobile, per cui se avete un'automobile che magari non usate perché è seconda o terza macchina in casa, vi invito davvero a farvela valutare, anche senza spendere alcun soldo, oppure ricevere addirittura dei soldi in differenza a vostro favore, cercheremo di fare di tutto per servirvi. Ricordo a tutti appunto, per chi non lo sapesse ancora, l'indirizzo, siamo in via circonvallazione 49A, visitate il nostro sito che è lucianomoto.com, vi aspetto. Come sempre io ti ringrazio Atos e ringrazio tutti voi per averci seguito, alla prossima puntata. Grazie a te, a presto.